Benvenuto in questo video dedicato alle citazioni degli antichi filosofi cinesi che offrono una saggezza senza tempo per navigare nelle complessità della vita moderna. Ci auguriamo che le citazioni che stiamo per condividere con te ti diano ispirazione, guida e incoraggiamento. Buona visione! Attenzione alla persona che ti loda sempre, perché tale persona è molto pericolosa. Il viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo. La felicità non è l'assenza di problemi, è sentire di avere la capacità di affrontarli. Smetti di essere prigioniero del tuo passato, sii l'architetto del tuo futuro. Per guidare le persone, seguile. Se vuoi avere successo, devi rispettare una regola, non mentire mai a te stesso. Il modo migliore per evitare delusioni è non aspettarti niente da nessuno. Dipendi principalmente solo da te stesso, non dipendere mai troppo dagli altri. Tutti cambiano quando incontrano nuove persone. Non cresciamo quando le cose sono facili, cresciamo quando affrontiamo sfide. Se qualcosa vale la pena essere fatta, falla con tutto il cuore. Cinque passi per la felicità. Sorridi di più, pensa di meno, sii presente, dai di più, aspettati di meno. La vita è l'esame più difficile. Molte persone falliscono perché cercano di copiare altri, senza rendersi conto che ognuno ha diversi desideri nella vita. Strade difficili spesso conducono a destinazioni splendide. Non piangere mai per quella persona che non conosce il valore delle tue lacrime. Non usare la tua energia per preoccuparti. Impiega la tua energia per credere. Brucia il passato, volta pagina, vai avanti. Un uomo saggio non dirà mai due cose a una donna, i suoi veri sentimenti e il suo saldo in banca. Concentrati sulle persone che ti ispirano, non su quelle che ti infastidiscono. Non prendere mai decisioni permanenti basate su sentimenti temporanei. La fiducia impiega anni per costruirsi, secondi per essere spezzata e un'eternità per essere riparata. Non ho tempo di odiare le persone che mi odiano perché sono troppo impegnato ad amare le persone che mi amano.